Ciao ragazzi, andiamo a completare la sfida fuori loro, rollo numero uno Mamma mia che sono stanco dopo questa weekend league Allora, ve la faccio vedere presto presto la squadra Io ho usato Real Sociedad, Real Madrid e Cadice Ho comprato la maggior parte dei giocatori perché tre squadre è difficile farla Come potete vedere mi zumpano più di 10k per fare questa sfida Quindi non lo so Speriamo che troviamo qualcosa dentro il pacchetto, che sennò siamo spacciati qua Oro Prime Sfida fuori ruolo numero uno Io ho trovato già un fuori ruolo Quindi 82 più garantito Che sarà un walk out No Mi mannaggia lì muer Ma Ma Un'ai simon Sotto me indi Sì E na 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 E na 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 Non lo so ragazzi A me Se devo dire la mia non mi conviene fare questa sfida Ormai l'ho fatta Voi potete fare quello che volete Tanto i soldini sono vostri Io vi ringrazio tanto E ci vediamo con un prossimo Ciao ciao